Musica Oggi è una giornata storica per la televisione, per il primo canale, per tutte le televisioni perché oggi è il giorno dello switch off, cioè la rimodulazione delle frequenze obbligate per fare spazio alla telefonia 5G, è un obbligo che permetterà comunque di avere una qualità migliore nelle televisioni, il primo canale sarà in HD oggi, questo è avvenuto stamane, alle 7.05 è stato spento il vecchio ripetitore, alle 7.20 è stato riacceso il nuovo ripetitore, siamo sempre sul Monte Fasce, sono due ripetitori a distanza di poche decine di metri l'uno dall'altro ma che restituiscono una qualità migliore a tutte le televisioni private, innanzitutto il primo canale che sarà un HD perfetto, si vedrà molto meglio, questo permetterà anche di razionalizzare i tralicci sui monti, ci sarà meno bisogno di ripetitori perché tanti potranno confluire sullo stesso come accade qui sul Monte Fasce dove viene utilizzato il ripetitore del Hightowers che è l'azienda che ha in gestione dal Ministero questo tipo di operazioni. Dunque una giornata importante oggi, 17 maggio del 2022, per tutte le televisioni il primo canale sarà ancora più bello. Qui si spegnerà la centralina, Roberto ci spieghi lei invece cosa succederà adesso? Cosa succede? Ma oggi succede che spegniamo, disattiviamo in modo definitivo la rete proprietaria di primo canale, quella che fino a oggi ha fatto vedere a almeno 400.000 genovesi il segnale di primo canale e buona parte della riviera fino ad arrivare a finale. Ecco, toccherà con la mano di Luigi Sette che è un tecnico della Hightowers. Ecco, ci siamo allora, possiamo andare avanti? Adesso non vedrete più il nostro segnale e probabilmente mentre sto parlando sparisce il segnale. Tra pochi minuti dovrete risintonizzare i vostri televisori per trovare il primo canale sempre al numero 10 del telecomando su un'altra frequenza, ovviamente del refarming. Magliano, almeno 10 minuti ci vogliono perché dobbiamo scendere? 10 minuti perché fisicamente i due impianti sono in due strutture diverse, quindi 10 minuti di tempo per riattivare l'impianto e poter risintonizzare. Ecco, questa rivoluzione porterà anche una pulizia, diciamo, cerchiamo qualche aspetto positivo delle tralicci. Sui monti ci sono tanti tralicci qua, come un'antenna centralizzata nei palazzi, nei condomini. Sì, sì, assolutamente sì. Porterà una pulizia ambientale, direi, sui monti e sicuramente una miglior copertura della popolazione della Liguria da partire da Sarzana fino a 20 miglia. Siamo sul tetto di un palazzo colossale, enorme, in via Carrea 10 e 12, un centinaio di appartamenti. Un palazzo molto molto particolare a Genova San Pierdarena perché è un po' l'esemplificazione di un caso problematico in occasione di questa nuova era digitale che ci sta coinvolgendo. Ritroviamo Nicola Crasta, presidente degli antenisti Liguri. Perché questo palazzo è così particolare? Questo palazzo è particolare perché riusciamo ad avere il contributo di otto differenti postazioni, otto differenti ripetitori, tutti qua in questa porzione di tetto. E di conseguenza la difficoltà è quella di dover discriminare i vari segnali, perché pre-digitale ogni ripetitore aveva i suoi canali di trasmissioni. Col digitale è nata la trasmissione in isofrequenza, tutti i ripetitori trasmettono sulle stesse frequenze e quindi c'è conflitto. Esatto, c'è proprio conflitto. Adesso Mario Albertone ci mostra in modo abbastanza generico da dove è grande questo palazzo, queste otto postazioni. Allora qua riceviamo Granarolo per poi continuare sulla destra verso i ripetitori del Righi, poi ovviamente il Monte Fasce che sovrasta la città, per continuare col Monte di Portofino coperto purtroppo da un po' dal camino. Spostandoci ancora verso mare abbiamo i ripetitori della lanterna. Non sapevo neanche ci fossero i ripetitori sulla lanterna. E fino a oggi Primo Canale aveva il ripetitore sulla lanterna. Adesso non più. Adesso non più, esattamente. Poi provendo il giro intanto cogliamo anche la vista meravigliosa da questo palazzo di Via Carrea. Altri ripetitori? Altri ripetitori c'è il Monte Bego. Anche questo purtroppo la visuale. Poi? Abbiamo il ripetitore del Monte Gazzo e infine il ripetitore del Monte della Madonna della Guardia. Quindi otto ripetitori che mandavano i segnali qua. Adesso con la svolta del nuovo digitale cos'è stato necessario fare? Negli anni abbiamo optato per un cambio di tipologia di ricezione, ovvero dalla tradizionale ricezione Fasce-Portofino, che è la più ovvia in questa zona, a una ricezione con un antennino particolare, questo qua, che riceve direttamente i segnali dal Monte della Madonna della Guardia. Quindi da questo lato si prende il segnale? Da questo lato si prende e ci si riesce a schermare dai segnali disturbanti delle altre postazioni. E chi ha invece gli appartamenti affacciati dall'altro lato riesce a prendere anche dalla Madonna della Guardia? Allora, sì, riesce a prendere perché l'impianto centralizzato... ...diciamo, però chi ha appartamento tutto con l'impianto, potrebbe avere dei disturbi. E' qui che ho pensato oggi, in concomitanza con lo switch off, di fare una cosa molto particolare, ovvero di convertire tutte e 13 le frequenze che da oggi sono in funzione su canali liberi. Essendoci ovviamente canali liberi a disposizione, questo può consentire di ovviare alla problematica della sommatoria dei segnali provenienti dall'impianto centralizzato con quelli che potrebbero arrivare direttamente all'utente tramite magari qualche connessione o qualche cavetto dentro casa non proprio idoneo. Ovviamente è un lavoro abbastanza complesso visto da fuori, poi fra poco vedremo anche come opera lui. Per quanto riguarda il palazzo, ci sono tante situazioni di questo genere in cui un palazzo prende da tanti ripetitori? Sì, beh, Genova diciamo che è una città per conformazione appunto che ha un numero notevole di ripetitori. Quindi può essere che ci sia una situazione, non dico proprio identica, ma similare. Ovvio, questa è proprio l'estremizzazione dei palazzi che io osservo, l'estremizzazione di questo problema. Queste qua sono archeologie ormai, queste antenne? No, assolutamente. Per questo palazzo sì, ma nella normalità è una configurazione che si usa. Ecco, per questo palazzo sì, perché abbiamo detto che non riceviamo più la classica configurazione fasce Portofino. In questo palazzo adesso le persone staranno risintonizzando, immagino, dopo quello che è successo stamattina al fasce. Beh, come tutti quanti, penso proprio di sì. Sono a Portofino, come vedete dal mio sfondo, questa mattina la nuova era digitale è arrivata anche qui in piazzetta, intorno alle 8 del mattino, sono state cambiate le frequenze dei ripetitori che si trovano peraltro in un luogo panoramicissimo, ovvero il Castello Brown, i tecnici di 8 Towers sono stati anche un po' in piazzetta con il loro furgone controllo qualità per vedere se tutto andava bene, io l'ho già sentito, mi hanno confermato che tutto è andato bene, allora noi siamo in un bar, un ristorante per vedere qual è la situazione, siamo già risintonizzato, buongiorno, tu sei? Micaela. Micaela, avete già verificato se con il cambio frequenze si vedono le tv di prima o no? No, non ancora. Andiamo a farlo insieme, allora tu sapevi Micaela che sarebbe successa questa cosa oggi oppure no? Sì? Sì, sì. Allora, vediamo, mettiamo primo canale e vediamo cosa succede, già c'è scritto nessuna informazione e questo è ciò che si trovano di fronte le persone, che oggi nella zona di Portofino ma anche di Recco, di Santa Margherita e andando più verso Genova di Bogliasco non hanno ancora fatto la risintonizzazione, allora Micaela tu sei capace a farla? No. Ok, allora prova a farla, io anche se c'è questo telecomando che magari non conosco benissimo, allora io vado sulla casetta che di solito è la sede dove si trovano le varie cose, vedo che sulla destra ci sono alcuni canali, allora vado sulla sinistra con la rotellina a cercare il menu impostazioni che di solito è proprio come sui telefonini questa rotellina, schiaccio ok e vado su trasmissione, abbiamo fatto un po' di corso anche con Nicola Crasta antennista, vado su trasmissione e vediamo cosa succede, impostazioni sintonizzazione automatica e io guardo Mario Albertono mi fa segno di sì, allora proviamo a schiacciare questo bottone, sintonizzazione automatica, vediamo cosa succede, sintonizzazione automatica e facciamo la conferma e adesso la televisione, premere avvio per cercare memorizzare i canali, poi cancella, avvio, piano piano dovrebbe tipo di canale non antenna ma digitale ovviamente, quindi io vado su tipo di canale digitale, non certo analogico, digitale, mi da conferma digitale, vado su trasmissione antenna in questo caso, digitale, perfetto, ordinamento automatico dei canali, vediamo, ordinamento automatico e adesso dovrebbe partire la ricerca, vado sotto e faccio ricerca, digitale vedete che inizia a processare, io era la prima volta che vedevo questo telecomando e questo televisore quindi vado un po' a tentoni ma fra pochi secondi dovrebbe comparire il primo canale, allora intanto chiacchieriamo un po' Michela, c'è tanta gente, vedo a Portofino pienissima anche in settimana, in settimana c'è un po' di gente, sono tanti stranieri, sentite tanti stranieri qua, in questa settimana ci sono stati tanti stranieri, principalmente tanti francesi, sentite parlare francese, sì sì sì, cerchiamo anche di parlarle un po' qua, bene, e avete sentito che nel weekend dovrebbero arrivare un po' di star come Kim Kardashian, Megan Fox, sì, no non lo sapevo, dovrebbero arrivare, allora caccia le fotografie, ma non sì, speriamo, speriamo, magari non li cogliete in privacy qua, ma in giro soprattutto i giovani saranno contenti se arriva Kim Kardashian, è vero? Chiedo a te, sarai contento, la conosci come i visuali, e anche Megan Fox? Lei un po' non la conosco, un po' meno forse, invece Kim Kardashian, ti farebbe piacere vederla? Ah, sì, grazie, allora intanto vado a controllare come sta andando la nostra sincronizzazione, siamo arrivati già all'85, 86%, speriamo che tutto vada bene, se no faccio una brutta figura, dopo tutto ciò che ho visto in questi giorni di risintonizzazione, 95, 96, 98, 100%, 148 canali trovati, questa qua è un'impostazione che richiede, ok, adesso andiamo a vedere se si vede primo canale, allora, vado avanti con i tasti del telecomando, vediamo se trovo i canali, allora esco dalla casetta, ok, adesso per schiacciare i canali vado avanti con questo, credo, guida, perfetto, vado giù, oh, primo canale HD, ed ecco che compare magicamente primo canale in HD, quindi una qualità veramente meravigliosa delle immagini, ed ecco che è andata a buon fine, quindi tutte le persone di Portofino e non solo di Portofino, abbiamo detto, in questa giornata devono fare questo procedimento perché altrimenti non vedrebbero più la nostra televisione. Dalla Val Daveto dove continuiamo a seguire il passaggio al nuovo digitale, qua in questa zona Rezzoglio dove mi trovo adesso, ma anche ad esempio Santo Stefano Davete e dintorni, primo canale non si era mai vista, invece grazie all'intervento di E-Tower nell'ambito del cambio delle frequenze e delle antenne, dovrebbe succedere il miracolo, il primo canale si dovrebbe vedere, siamo in un bar che ha appunto la televisione diciamo normale, vuoi veramente cancellare tutti i canali, cosa devo mettere io? No, sì, faccio la risintonizzazione, ricerca, canale TV, speriamo di non fare dei guai, vedete che sta cercando i canali, bisogna dire che molte persone qua in questa valle, non vedendosi la televisione, molti canali non si vedono, a livello di digitale terrestre almeno fino a oggi avevano scelto di avere solo l'antenna parabolica, quindi paradossalmente noi non potevamo essere visti, invece chi ha il sistema normale, quindi l'antenna normale non parabolica, da oggi vedrà primo canale, continuiamo a scorrere e vediamo alla fine come andrà. La sintonizzazione è completata, per fortuna si rivede qualcosa, ma mettiamo il 10 per vedere se si vede per la prima volta primo canale in Valdaveto, suspense, ed ecco primo canale che si vede in Valdaveto è viva, intanto sono contenta di non aver applauso della barista a scena aperta e dei clienti, grazie, perché è un momento di svolta, allora sentiamo due voci delle clienti, buongiorno, grazie per l'applauso signora, ecco, è contenta che si vedano più tv e anche primo canale fondamentalmente. Certamente. Perché qua era servita malissimo la zona. Ma è servito fin dove? Tutta la Valdaveto, dovrebbe vedersi in tutta la Valdaveto. Allora stasera ci proviamo, dai grazie. Dovete risintonizzare la televisione, così come ho fatto io semplicemente. Va bene, d'accordo, proveremo senza altro. Avete il digitale, non avete solo la parabola. No, 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 abbiamo anche il digitale, effettivamente qui ci sono molti meno canali. Lei ha solo la parabola, allora deve mettersi, venga qua accanto a me signora, sennò diamo a sparare la telecamera. Lei se ha solo la parabola deve mettere un'antenna normale, se vuole vedere anche televisioni come primo canale, invece lei che ha la televisione normale finalmente vedrà più canali. Perfetto, siamo felici, grazie. In Valdaveto, in mezzo al verde della Valdaveto, questa volta a Cabanne, sempre nel comune di Rezzo Aglio, in questa giornata un po' particolare, perché intanto anche in queste zone transita il Giro d'Italia in particolare al Passo del Bocco, quindi non precisamente qui, ma poi si innesterà da Mezzanego nella Valle Sturla verso Carasco per poi risalire in Val Fontana Buona. Siamo qua, come ripeto, per la svolta digitale, perché oggi, da oggi, grazie al lavoro di E-Tower, anche in questi ripetitori, primo canale che non si è mai vista in questa zona, me lo conferma Graziano, non si è mai vista, mentre lei di Chiavari a Chiavari la vede. A Chiavari la vedo tranquillamente. E qua dove ha casa in Val Daveto? Zero. Dove ce l'ha la casa? A Santo Stefano. A Santo Stefano non l'ha mai vista. Zero. Peraltro ci vanno anche tanti turisti genovesi in estate. Stamattina, lei sapeva che da stamattina cambiava qualcosa? È da ieri che provo, io ho risintornizzato. L'ha provato ieri, però era troppo presto, ieri non aveva senso. Lei doveva provare dopo le 10 di stamattina. Io ho provato un po' prima e il risultato... Ha fatto la risintonizzazione? Tre volte. Non l'ha fatta prima che intervenissero ai Tower alle 8 di questa mattina. Può essere, non è un po'. E tutto sta qua, vede. Lei ha riprovato e cosa le è successo quando l'ha fatto? Dopo un'ora mi sono stufato. Perché non vedeva nulla? Però ha provato tutto. Però Graziano abbiamo trovato l'intoppo. Vedo 9 canali, tutti della RAI e sono tutti in Hd. Vedo TG3 dalla Sardegna, dalla Toscana. Ma non vede Primo Canale e altre tv locali. Allora, Graziano lo sa dove ha sbagliato? Ha sbagliato perché questa risintonizzazione lei la deve fare dopo le 10 di questa mattina. Perché doveva dare il tempo ai tecnici di cambiare i segnali delle antenne. Ma sicuro. Era già pronta a buttare via la televisione. Io ho già sentito che a Santo Stefano la vedono, a Rezzoglio la vedono. Quindi la deve vedere sicuramente anche lei. Mi promette che la risintonizza quando torna a casa. Sintonizzo di nuovo. Poi magari si vede in tv allora. Si guarda su Primo Canale. Primo Canale. Vedo tutto. A me è sempre piaciuto Primo Canale. Come sempre in questi giorni spuntiamo sui tetti delle varie case della Liguria per parlare ancora dello switch off che oggi interessa particolarmente la zona del Tigulio con i comuni di Chiavari, Lavagna, Sestre Levante compresa Riva Trigoso che è un quartiere dove molte persone ci segnalavano negli anni passati il fatto che Primo Canale non si vedesse e poi Zoagli e Rapallo. Quindi oggi è proprio la giornata di questa zona. Bisogna risintonizzare il televisore con il telecomando e sperare che tutto vada a buon fine. Ma dove mi trovo io? Sul tetto di una casa di lavagna in via del Mercato e zone limitrofe, un quartiere con case popolari nella strada che si arrampica verso Santa Giulia. C'è qualche problema di più? Mauro Garibaldi, buongiorno. Perché questa zona è particolarmente problematica? Perché sicuramente le antenne sono vecchie, obsolete. Si può vedere un'antenna dove ci sono ancora parecchi filtri, trappole, passacanali. Sono tutti quegli scatolini che vediamo attaccati all'antenna? Cosa sono? Da un'antenna si faceva passare solo alcune frequenze, che era RAI2 e RAI3, da Portofino, che si chiamava passacanale, perché passava solo quei due canali. Mentre invece dalla parte di Cogorno, dove c'è le altre antenne, dove ricevono le altre antenne, si mettevano delle trappole per fermare quelle frequenze, in modo che non andassero a cozzare tra di loro. Questo ormai è un sistema non più utilizzato, con una centrale a filtri, come abbiamo fatto vedere la volta scorsa, si riesce a fare il tutto senza dover mettere tutte queste scatolette, si riesce a dare un segnale ottimale, equalizzato, eccetera. Di conseguenza qua ci sarà necessario fare interventi, diciamo, abbastanza importanti. Cosa deve fare manovrando la centralina? Beh, diciamo che in questo caso la centralina va sostituita. Va proprio sostituita, è uno di quei casi in cui appunto non basta risintonizzare il telecomando. Eh no, è meglio sostituirla per poter dare appunto i canali tutti alla stessa potenza, diciamo, un segnale di buona qualità. Però bisogna anche intervenire esternamente perché queste antenne sono solete e bisogna sostituirle e mettere antenne di ultima generazione che hanno all'interno un filtro LTE per fermare, diciamo, quei segnali che non sono TV, che potrebbero essere telefonia o quant'altro, che possono andare a disturbare o, diciamo, andare, sì, a disturbare anche il centralino perché se arrivano delle potenze più alte il centralino poi potrebbe, diciamo, in gergo dire imbarcarsi perché gli arrivano a un segnale più alto e di conseguenza creare dei disturbi sui canali, sui canali TV. A voi hanno chiamato gli amministratori di condominio in questo caso? In questo caso sì, qua ci sarà da fare un intervento del genere, cioè sostituire le antenne, sostituire il centralino. Si presume che la distribuzione, se è andata fino a ieri, possa ancora, la distribuzione, diciamo, dei cavi, delle prese, degli appartamenti possa funzionare anche domani quando si verrà fatto questo intervento. Fate presto, mi raccomando, se no non ci vedono per troppo. No, assolutamente, cercheremo di intervenire il più presto possibile, purtroppo oggi no perché è una giornata un po' particolare perché purtroppo essendo solo e devo correre da una parte all'altra, qua cercherò di intervenire il più presto, la settimana prossima. E questo è l'esempio classico del perché era importante cercare di intervenire in anticipo, in questo caso voi della provincia della Spezia siete ancora in tempo per chiamare gli antennisti in anticipo, la prossima settimana, il 25 maggio, si dovrebbe chiudere tutta questa operazione e quindi cerchiamo di evitare che non si veda primo canale. Ieri abbiamo mostrato che in Val d'Aveto, dove non si era mai vista, si vede, peraltro ricordiamo anche in HD, quindi è un bel vantaggio. Come dice il nostro editore, persino noi magari sembriamo più belle in televisione, ha detto l'altro giorno a Tiziano Oberti. A parte gli scherzi, ovviamente l'HD, quindi l'alta qualità del video, porta vantaggi anche nella fruizione delle trasmissioni. Adesso io vado a caccia di qualcuno che ha bisogno di risintonizzare il telecomando, perché per noi giovani sembra una cosa facile, però non lo è ovviamente per molte persone, oltre una certa età, che anche per fare una semplice risintonizzazione possono avere problemi. Quindi ci vediamo fra poco, grazie Mauro e buon lavoro. Anna, buongiorno. Lei è vero che stamattina non ci ha più visto? No, tesoro, non vi ho più visto, me ne è dispiaciuto, perché io sono fedele, sai, torno mattina c'ho i miei contatti alla televisione. Ma lei sapeva che c'era questa rivoluzione? Sì, certamente. L'abbiamo detto tanto. Vi ho seguito, infatti, vi ho seguito. E adesso Anna appunto ci ha fermato, ha detto non vi vedo più, allora siamo saliti in casa sua, io ormai sono esperta di telecomandi per provare a fare la risintonizzazione e vedere se va a buon fine. Lei è capace a farla da sola? No, per niente. Ti l'aiuta di solito. Mio figlio, mio figlio. Allora adesso ci sono io, io vado nel tasto menu del telecomando, classicamente, installazione, scansione automatica dei canali, faccio ovviamente ok, antenna digitale faccio ok, ovviamente, avviare la ricerca, faccio sposto e dico sì, e adesso dovrebbe partire questo sistema, vedrete la solita banda che piano piano inizia a, con la percentuale, a caricare tutti i canali che si vedranno. Quali sono le trasmissioni che segue di più su Primo Canale, Anna? Ah, guarda, seguo sempre le rubriche di formazione, mi piace. Tiziana al mattino, Enrico Cirone. Enrico, sì. E poi mi piace moltissimo quando andate in giro a fare servizi, dato che a me piace molto il cibo, non si vede ma te lo dico. Viaggio in Liguria di Gilberto Volpara, sicuramente. Lo vedo, lo vedo, lo vedo. E allora, sì, per le città, guardo, vario, sì. Bene, a livello sportivo cosa segue, Geno o Sampdoria? A livello sportivo a me piacciono tutte, basta che giochino bene, siano corretti e per me va bene qualsiasi squadra. I miei fratelli erano dal Genoa, erano un altro mio fratello della Sampdoria. Quindi democratici in famiglia. E io ho sempre parteggiato per uno e per l'altro, basta che non vi bisticiate, gli dicevo, perciò sono così. Bene, allora controlliamo, stiamo arrivando ad una buona percentuale, fra pochi secondi finalmente si dovrebbe vedere il primo canale. Poi vi farò vedere anche Telecittà che è slittato di qualche canale un po' più avanti rispetto a dove eravamo sull'11. Siamo arrivati al numero 16, anzi anche questo se lo segni, perché poi su Telecittà vanno spesso le repliche delle nostre trasmissioni. Quindi vediamo come va a finire questa risintonizzazione. Ecco che è finita la risintonizzazione, siamo finiti sul 4, adesso giriamo e vediamo cosa succede quando metto primo canale che da questa mattina non si vedeva. 10, vediamo se si vede. Ok, Anna vediamo. Se si vede primo canale io sento già la voce ed ecco che ci sono le nostre trasmissioni. è andato a buon fine e quindi adesso andiamo a trovare anche, come ho detto, Telecittà che troviamo sul 16. Ricordatevi anche questo con la pubblicità di Viaggio in Liguria, ne parlavamo poco fa con Corona e Gilberto Volpara, quindi abbiamo portato il Basilico anche nel nord Italia a conoscere. È contenta che l'ha ritrovata, primo canale Telecittà? Sì, sì, tantissimo, tantissimo, ci tengo tanto, io tutte le mattine, guarda, sono fedele come carabinieri. Allora grazie, siamo contenti di averla aiutata. Grazie a voi, molto gentili, mi ha fatto piacere. Grazie a tutti. Sì. Grazie a tutti.